La prima volta che incontrai Anif Qureshi lo feci inconsciamente nel senso che non sapevo che c'era lui dietro la sceneggiatura di quel film, sto parlando di My Beautiful Own Red, un film che esplose letteralmente nel 1985, fece tantissimo scalpore e vinse anche un sacco di premi. Tra l'altro è il film dove vidi per la prima volta sullo schermo uno strepitoso Daniel Day-Lewis. Ecco, Anif Qureshi era lo sceneggiatore di My Beautiful Own Red. Penso che in italiano l'abbiano tradotta lavanderia a gettoni o qualcosa del genere. Poi, due anni dopo, fece un altro film, Sammy and Rosie Get Laid. Anche quello ebbe molto successo, anche se non tanto quanto My Beautiful Own Red. Però con il Buddha delle periferie, The Buddha of Suburbia del 1990, mi sono resa conto che Anif Qureshi mi piaceva tantissimo. The Buddha of Suburbia è il suo primo romanzo e anche questo vinse un sacco di premi e lo mise nel panorama dei giovani scrittori, perché aveva poco più di 30 anni quando uscì The Buddha of Suburbia, credo. Quindi lo mise nel panorama degli scrittori molto importanti e da lì poi ho cercato di seguire un po' quello che lui ha scritto. Qualche anno dopo scrisse Intimacy, che mi piacque, però vagamente ricordo che venne un po' oscurato da uno scandalo, perché Intimacy è la storia di un uomo che lascia la moglie e lui aveva appena lasciato sua moglie nella vita reale per mettersi con una donna più giovane. Abbiamo visto un sacco di volte queste storie. Perché vi sto parlando di Anif Qureshi? Perché lo scrittore a dicembre dello scorso anno era in vacanza con la moglie a Roma, è caduto ed è rimasto paralizzato. E da dicembre dello scorso anno, ha trascorso prima molti mesi in un ospedale a Roma, poi è stato trasferito in un ospedale a Londra, dove è adesso. Dall'ospedale ha iniziato a scrivere una newsletter che si chiama Dispatches from my hospital bed, quindi messaggi missive dal mio letto dell'ospedale. E io l'ho scoperto per caso, non sapevo che gli fosse successo questo incidente, l'ho scoperto qualche mese fa. E da quando l'ho scoperto sono diventata una assidua lettrice di questa sua newsletter, dove racconta anche con dettagli molto scabrosi, molto intimi, quello che gli succede nel letto d'ospedale e come è cambiata la sua prospettiva di vita. Incredibilmente affascinante, incredibilmente profondo e toccante.